Io ovviamente mi riferivo alle grandi, alla stampa mainstream, come si dice, abbiamo visto tutti sui grandi giornali, prima la sottovalutazione, poi il terrore, poi improvvisamente controordine, bisogna andare tranquilli, è quella l'informazione, se poi uno, sicuramente ci sono delle micche di informazione corretta, in generale mi sembra che abbiamo fatto una brutta figura.